Abbiamo cercato di accelerare i tempi per l'inaugurazione del sito relativo al Museo Civico di Viterbo perché riteniamo che sia un momento estremamente importante a livello di conoscenza della città di Viterbo perché ormai è d'uso per chiunque vada a visitare una città e assumere delle informazioni visitando i siti della città stessa e che quindi riteniamo che il nostro sito come città di Viterbo è in funzione e funziona attimamente. Riteniamo importante che ci fosse anche questo portale del sito del Museo Civico perché all'interno del Museo Civico sono contenute una serie di realtà importanti per far conoscere la città di Viterbo. Quindi dedicheremo molto impegno nel cercare di far sviluppare questo sito nel migliore dei modi per mettere uno strumento a disposizione dei turisti perché qualunque sforzo che si fa nella città di Viterbo ritengo debba andare insieme. Io ho dichiarato all'inizio della mia attività che bisogna sempre collegare la cultura con il turismo nell'attività che sia fondamentale di mettere sempre in collegamento tutti i problemi che riguardano il mondo culturale con il mondo della realtà turistica e il sito del Museo Civico va esattamente in questa dimensione. Grazie. Ciao. Ciao.